salve a tutti amici di youtube alla fine ho dovuto creare questo audio perché era stravotato nel sondaggio del mio gruppo telegram quindi se in futuro anche tu vuoi votare clicca semplicemente nel link qui sotto ti ringrazio per accompagnarmi in questa avventura devi capire che la trasmissione di pensiero da una persona un'altra avviene dovuta al fatto che siamo fatti tutti allo stesso modo ovvero energia i pensieri e le emozioni sono energia è una delle proprietà che ha l'energia è la capacità di andare da un corpo a un altro in questo esercizio utilizzeremo questa qualità per creare una forte connessione telepatica con una persona specifica i risultati logicamente variano e dipendono dalla situazione e dalla connessione che hai con quella determinata persona infatti non so se ti è mai capitato di pensare esattamente la stessa cosa che pensava magari una persona tecara o una musica e magari l'avete cantata contemporaneamente oppure nei gemelli che sentono se l'altro sta bene o sta male e mille altri esempi se vuoi magari raccontare anche tu un episodio scrivi qui sotto per avere maggiori risultati ti consiglio di praticare questo file almeno per 30 40 giorni in un luogo tranquillo dove sai che puoi concentrarti unicamente nella persona la quale vuoi inviare questo messaggio telepatico ti dico subito che questo file non è come tutti gli altri che ho caricato in passato qui su youtube è qualcosa di più avanzato oltre che personalizzabile alla tua situazione speciale cosa vuoi dire ti starai chiedendo semplicemente che dovrei ascoltarlo una prima volta e successivamente creare tu tre frasi da ripetere durante l'ascolto mentre visualizzi la persona in questione se poi non sai esattamente quali frasi creare ok puoi scrivere qui sotto nei commenti la tua situazione e io ti aiuterò appena posso a creare queste tre frasi e che dovrai ripetere durante l'ascolto allora una risorsa simile non l'avevo mai creata gratuitamente e questo audio è solamente un 3 per cento di quello che puoi trovare all'interno di telepatia efficace per quattro dove ben presto aggiornerò il contenuto con nuove informazioni e strategie avanzate da praticare anche da vigili senza bisogno di un audio come questo quindi clicca nel link qui sotto se magari vuoi imparare tutto riguardo la telepatia e come puoi utilizzarla a tuo vantaggio per vari aspetti della tua vita spero logicamente in maniera etica iniziamo trova un luogo tranquillo puoi sederti o sdraiarti chiudi gli occhi lentamente porta l'attenzione a tutto il tuo corpo e rilassa ogni singola parte di questo in maniera lenta e continua senti i tuoi piedi le tue gambe come si eleva il tuo addome e il tuo petto quando inspiri e come si rilassa quando espiri sente le braccia il viso le tue labbra non si toccano poiché sono completamente rilassate lascia andare ogni singolo pensiero e fatti trasportare da queste sensazioni ora concentrati solamente nelle sensazioni del tuo corpo nel tuo respiro e nella mia voce che ti guida in questa avventura inspira profondamente l'aria dal naso espira lentamente l'aria dalla bocca ultima volta ora respira normalmente ricorda siamo amore puro e amare se stessi è molto importante per poter inviare la nostra energia verso gli altri in questo momento ti chiedo di farti guidare dal tuo cuore e se in qualunque momento senti che la tua mente si distrae riporta l'attenzione al tuo respiro adesso inizierò a contare regressivamente e voglio che ti concentri nel centro della tua fronte dove si trova il terzo occhio per farti capire meglio si trova nel centro poco più in alto delle sopracciglia e ad ogni numero che sentirai visualizza una luce bianca e luminosa nel tuo terzo occhio e se ti dà fastidio non visualizzare la luce bianca ma semplicemente concentrati in questo punto nel centro della tua fronte e ripeterai mentalmente le seguenti parole fino alla fine dei numeri dei numeri o potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso dieci o potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso 9 o potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso 8 o potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso 8 o potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso 10 6. Ho potenti capacità telepatiche e sento come si attiva adesso. Continuo. 5. 3. Sempre più in profondità. 2. Entriamo nel tuo inconscio più profondo. 1. Completamente recettivo. Adesso ti chiedo di visualizzarti in un luogo a te sicuro, dove sai che ti senti completamente bene e in pace. Può essere la tua stanza, un parco, una spiaggia, un posto dove sei stato, oppure, ancora meglio, un luogo di fantasia. Immagina per un istante quel luogo, quel luogo sicuro e senti di essere lì, presente, ora. Percepisci ogni singola sensazione. 2. Osserva ogni minimo dettaglio. 3. Osserva se c'è il sole, se è sera, come il clima. 4. Senti le meravigliose sensazioni che ti porta a questo luogo, il profumo intorno a te. 5. Sensazioni di rilassamento che trasportano la tua mente e il tuo corpo. 6. E più aumentano queste sensazioni, è più facile è per te osservare una luce luminosa nel centro della tua fronte. 7. Chissà, inizi a sentire calore. 8. Chissà, la vedi inizialmente di un altro colore, che inizi a prendere forma. 9. O senti un leggero pulsare, gradevole, nel centro della tua fronte. 10. Questo è perché il terzo occhio si sta attivando ed è molto importante per passare alla fase successiva. 11. Cosa fai in questo luogo? 11. Stai camminando? 12. Ti trovi sdraiato? 13. Seduto? 14. Visualizza e osserva nei minimi dettagli. 15. E più il relax aumenta e più intensa diventa questa luce nel centro della tua fronte. 15. Percepisci che qualcosa si sta risvegliando ora in te. 16. Il tuo potere telepatico. 16. Il tuo sesto senso. 17. E fai sì che ti porti ancora più rilassamento. 18. E benessere. 19. Nella tua mente. 20. Nel tuo cuore. 21. Nella tua anima. 21. Nella tua anima. 22. Nella tua amica. Ora che hai raggiunto il picco massimo della luminosità nel tuo terzo occhio, ti chiedo di visualizzare in questo luogo di fronte a te, la persona alla quale vuoi inviare il messaggio telepatico, ripeti mentalmente il suo nome tre volte e successivamente osservala esattamente a due metri circa di distanza da te, osservala, ripeti mentalmente tre volte il suo nome, puoi vederla negli occhi, osserva come quella persona è completamente ferma, immobile, rivolta verso di te e ti sta guardando. Ora ti chiedo di concentrarti e fissare intensamente il terzo occhio della persona che hai di fronte, nel centro della sua fronte, immagina un piccolo cerchio in quella zona, un cerchio luminoso, scegli tu il colore, può essere blu, giallo, verde, nero, rosso, scegli il colore che preferisci e visualizzalo intensamente nel centro della sua fronte, visualizza tutto nei minimi dettagli, come vestita la persona, chissà puoi sentire anche il suo profumo, puoi vederla sorridere, dipende molto dal messaggio che andrai ad inviare, puoi vederla seria, sana, tu sai quale connessione vuoi creare con questa persona, quindi immagina e usa la creatività. Continua a guardare il terzo occhio di questa persona e voglio che prima di tutto crei mentalmente tre frasi che sentirai completamente tue, sul risultato che vuoi ottenere, possibilmente nel tempo presente e non nel tempo futuro. Se hai bisogno di un aiuto, scrivi qui sotto la tua situazione e ti aiuterò io. Facciamo un esempio, se vuoi riconquistare qualcuno può essere, adesso metto un nome a casa, adesso Lucia vieni a me. Tu, Lucia, mi desideri e mi cerchi ora. Tu, Lucia, senti il desiderio ardente di vedermi e avermi ora. Puoi farlo anche se vuoi conquistare una persona, se vuoi aiutare a guarire un tuo caro per qualunque motivo, magari anche per ricevere una promozione al lavoro, eccetera, solamente tu lo sai. Facciamo l'ultimo esempio che sia per aiutare una persona cara a guarire. Marco, sei in perfetta salute ora. So che l'universo manda energia e salute a te, Marco. Grazie, perché Marco è sereno e pieno di gioia. Tu, Marco, sei sereno e pieno di salute. Grazie. Adesso non posso dilungarmi con gli esempi, ma prima pensa bene a quali frasi vuoi creare per la tua situazione. Ti lascio un po' di tempo per pensare e se vuoi, attualmente, puoi crearne solamente una. Pensa e crea Crea e pensa Ora Continua a visualizzare la persona di fronte a te. Ti chiedo gentilmente di ripetere queste tre frasi, una alla volta, mentre visualizzi intensamente il suo terzo occhio e mentre lo fai, osserva come la luce luminosa del tuo terzo occhio arriva profondamente nel centro della sua fronte osserva come questo raggio di luce si dirige verso questa persona ad ogni frase che ripeti sempre più intensamente ripeti ora mentalmente le due frasi Concentrati nel suo terzo occhio e osserva questo raggio che arriva intensamente ripeti le due frasi e visualizza come quella persona è ricettiva il tuo messaggio telepatico e ora ti chiedo di visualizzare anche come tutte le tue frasi e parole che stai continuando a ripetere si attaccano profondamente nel corpo di questa persona osserva come si incollano in ogni parte del suo corpo e rimangono completamente attaccate come un tatuaggio indelebile continuo a osservare questa persona lì ferma di fronte a te osserva come ti sorride perché sta percependo perfettamente questa forte connessione queste frequenze che adesso gli stai inviando ripeti ancora le tue frasi e visualizza questo raggio di luce che arriva nel centro della sua fronte e le parole che si attaccano completamente nella sua pelle che si attaccano completamente le parole continuano a incollarsi nel suo corpo il raggio di luce che connette te e l'altra persona partendo dal tuo e dal suo terzo occhio è sempre più intenso e luminoso continua a ripetere continuo a ripetere continuo a ripetere continuo a ripetere a ripetere la connessione questo messaggio mentale sta arrivando a un punto massimo arriva ma prima ti chiedo di avvicinarti a distanza di un metro guarda la persona negli occhi e ripeti mentalmente le seguenti parole mentre osservi come ricettiva a quello che dirai adesso ripeti il nome della persona siamo connessi e hai ricevuto perfettamente il mio messaggio telepatico ogni singola parola che hai ricevuto ora è pura realtà per te la mia presenza telepatica è completamente incisa nel più profondo del tuo inconscio ripeti il nome della persona sai che puoi permetterti di agire secondo ciò che hai appena ricevuto e sentito in questo stato profondo di connessione telepatica puoi farlo e lo fai adesso sperimenti un grande sentimento di gratitudine perché hai la piena certezza che questa persona ha ricevuto il tuo messaggio telepatico osserva come ti fa un cenno con la testa facendoti comprendere che hai ricevuto esattamente ciò che hai trasmesso finora e nel mentre si gira e continua nel suo cammino sapendo che penserà continuamente giorno e notte al tuo messaggio telepatica e adesso che hai la piena certezza ti chiedo di uscire lentamente dal luogo e quando sentirai il numero 10 aprirai lentamente gli occhi e avrai hai la piena certezza che la persona ha ricevuto ogni singola emozione e sentimento che hai deciso di trasmettere hai piena fede nelle tue capacità sai che sei molto più di quello che puoi vedere sei energia pura divina frequenze sempre in movimento e ora queste potenti frequenze sono arrivate e rimangono nella mente e nell'inconscio più profondo di questa persona inizia a prendere coscienza cinque ritorna dove ti trovi sei prendi coscienza del tuo corpo fisico sette inizia a muovere lentamente i piedi e le gambe otto ti senti completamente bene in totale è relax nove fai un respiro profondo calmo e rilassato dieci apri gli occhi lentamente senti ogni singola parte del tuo corpo inizia a riprendere coscienza del luogo in cui ti trovi e percepisci come ti senti completamente bene e in totale armonia io ti ringrazio per essere arrivato o arrivata fino a qui come ti ho detto se hai bisogno che ti aiuti a creare le tre frasi in modo tale che siano il più potente possibili scrivi la tua situazione qui sotto anche senza mettere il nome dell'altra persona alla quale vuoi trasmettergli il messaggio telepatico è appena possibile ti rispondo sappi inoltre che questo è un esercizio più avanzato e proprio per questo motivo potresti sentire anche una leggera pressione nel centro della tua fronte e chissà magari anche un po' di affaticamento se hai fatto tutto correttamente se è così alzati piano piano prenditi il tempo che vuoi e bevi un bel bicchiere d'acqua e ti ricordo che questo file va seguito almeno per 30 giorni per massimizzare i risultati se poi senti il bisogno immediato di approfondire l'argomento non ti resta che vedere qui sotto in descrizione telepatia efficace per quattro che ben presto sarà aggiornato con nuovi contenuti inediti ti ringrazio un abbraccio non ti resta non ti resta non ti resta allora Grazie a tutti. Grazie a tutti.